Oh, ho sbagliato! Wow, ma che manovra! Ok, abbiamo... Devo sciocciare il naso Ok Cosa devi fare, scusa? Sciocciare il naso! Ah, eh, giustamente! Perché voi il naso non lo sciocciate? Ma io qui, generalmente, se riesco o no, poi sotto tema Allora, Concordia, sì, è dall'altra parte del... Beh, ma ci sono le stelle cadenti! Sì, vabbè... Più o meno Sì, cioè che poi probabilmente saranno più facili che siano parti della base Hyperion che non... Ah, eh, questa è la città! Questa dovrebbe essere la nuova Sanctuary! Sì! Siamo arrivati nel rub, praticamente Sì! 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 Ah, è cassonetti! Tutto giallo! Ma come? G-O-M-T-M-T-P G-O-M-T-P G-O-M-T-P Oh, great! Yeah, consider yourself totally clear for decontamination. Boom! Told you I'd get you in. You're on your mind now. G-O-M-T-P Oh! G-O-M-T-P 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 e canio's banding machine do buy eels you're healthy, go! Ok Il meriffo Il meriffo Il meriffo Nooo L'ha lasciato giù Nooo Oh Visitori da Helios Ah... Quindi... Non viaggi di oggi Ah... Quella per le shift Sì Sì Oh Direi che sappiamo già chi c'è Oh Direi che sappiamo già chi c'è Sì Immagino Beh basta leggere il nome fuori Eh Ah sì Sì Ci sono i Daft Punk con lì Roland Ah Ah mitico E' il boss finale dell'uno Che ha un coso tentacolare Che ha un coso tentacolare Che ha un coso tentacolare Il suo ex ha fatto il vostro aiutato. E il meglio di te fare. È molto bello, appare. È molto bello, te anche. Quindi, Jack ha fatto il tuo, eh? Deve ha fatto un'ottima cosa. Non c'è, però è tutto in la passata. Cosa dobbiamo? C'è un segno di segno qui sta scurando con Helios'e difensi. Mi devo prendere il segno. Vuoi trovare un segno? Quindi devi mettere i trasmittori sulle torrile a l'eco. Prendi alto, semplice triangulazione. Ci saranno la source, poi puoi cercare. La cosa è che non ho alcuni trasmittori qui. Ma questo è verificabile. Prima ti ho bisogno di prendere alcuni montoni che erano confiscati da l'eco costumbre. Andate qui e l'update, ecco. Credi a me. Puoi fare un ripieno? Che stai facendo? Stai lavorando qui. Oh, aspetta! No! Barbot! Uh! Ha trovato la malattia! Ha trovato la malattia! Oh! Una skin! Del Gagliatore! Questo è un fucile dimenticabile. Facciamo altre due giocate. Nooo! Uh! Una shotgun della Torg! Via! Stanno solo due posti arma adesso! Sì, infatti per adesso non ho più di tanto! Io volevo andare alla macchinetta delle shift codes! Ah, in bombe! Ma io non ho codici shift! Poi scusa, non conviene usare adesso che siamo di vego 7! No, ma volevo cercare di capire cosa... No, ma volevo cercare di capire cosa... Oh, io non compro niente con i shift codes, finchè non ho i miei due pistole! Sto cercando la macchina... Sto cercando la macchinetta di personalizzazione! Sto cercando la macchina di personalizzazione! Mi era mancato! Questo non sembra male! Ah, qua c'è quello per cambiare personaggio! Ah, eccolo qua! Un attimo! Ah, dovremmo essere sempre noi! No, non abbiamo sporcato nulla il nuovo! Arrivo! Stiamo andando, stiamo andando in giro a caso! Ok! Questo è... Oh, ma cazzo, ma è una ruspa! Sì! È bellissimo! Eh, ma... Eh, beh, la ruspa, scusa! Ma non è neanche da mettere! Ma non l'avevo visto! Ma è fantastico! Ah, sono una ruspa! Qua! Immagino quando ti verrai una nave pirata! Eh, beh... Una ruspa nave pirata! Eh, vi saranno cazzi, eh! Ragazzi, vado a fare un po' di movimento terra io all'intanto, mentre voi scegliete cosa fare! No, vabbè, sono un punto, vedo che dobbiamo andare... Dov'è? Qua! No, vabbè, questa è una... Ah, c'è anche un'arma! Non la banca! Eh... Tu puoi avere la piazza! L'anore non lo necessita! Lo stash, eh? E' là dove puoi vendere item che vuoi cambiare tra gli altri caratteri. Non è sicuro perché ti metti le piazzone là. Aspetta, lo stash... Ah, è là! Sempre assicuranti i medici in... in Borderlands. Poi li vedete tutti! Allora, guarda... Certo, ho le piazzone all'interno! Classico, eh? Seriosamente? Shamy non ti mette per la stupidezza. Prendete le piazzone e prendetele al mercato blanco. Vi mostri le piazzone all'interno e avrai ciò che hai bisogno. Ho comprato un paio di trasmettere in Borderlands. Però è più contenuta. C'è un po' un labirinto. Allora, c'è... Eh, lo stai da dire di che da-dapertutto puoi arrivare dappertutto? Ah, dove è? Dove? No, di fa... Beh, lo stai dai... Spettata sono un po' di roma apprendiamo un pochino barco cioè io comincio già da adesso prendermi le munizioni in più per la pistola bravo ma che che cazzo ti sei messo in testa è una ruspa è una ruspa ah ah bello bello si bello ok ok quindi dov'è qua no di sopra eh si però ah ok ci sono le scale lì no no è qua ho una connessione ma non è molto stabile tu mindi giving it a whack for me that's better give me a sec to get everything set up on this end i don't understand but she picked them up didn't come in person sent someone i'm just letting you know cause you said to if anybody ever swung by for them and she didn't mention me at all yeah so see what i mean about that girl the signal it's not coming from concordia coords for the next tower on your echo ok in effetti molto multilivello è verticale si mi sa che è quella si c'è elettricità quindi direi di vediamo dove porta il cavo spenta spenta she's working now let's get it calibrated i just gotta mess with some dials back here e chi c'era la mamma di nina io ho paura che c'era You'll need to destroy them. Yeah, so... Looks like a bullet or two damaged the relay drive gearbox. Sift through those turrets. See if you can find a replacement. Say what? Just... It's a thing that makes the transmitter work again. That's it? Score! Give me time to just... Oh, FFF. Now we now have to listen to a blog's trumpet. I'm too excited! I have to worry about that it's really important. Yeah, I'm still great. answers today? Also, I'm gonna start off at the beginning of the day. Grazie a tutti. Oh, aspetta un attimo. Che io vendo un po' di roba. Oh, ci sono i drink che paghi e aumenti le caratteristiche per 30 minuti. Ok. Sì. Ah. Qua cosa c'è? Eh sì, bevi, costano 10 eridium, ok. E durano 30 minuti, danno più 10, più 20% alle cose. Sì, no, guardavo cosa... che roba c'erano. Fatto. Ok. Sì. Io so cos'è la vera Moxie. Sì. Sì. Beh, in effetti se i suoi figli sono abbastanza tecnici... Scootere... Sì, è vero. Ci sembra una bella Jacob qua. Cioè, bella. Bella no. Dai no, manco per cacchio. Oh, cross mode. Ah. Grande, grande. Team Shield Recharge Rate e Team Shield Recharge di Ray. Bene, abbiamo gli scudi tutti i migliori. A voi che c'è? Ah, bene. Ma io ho riduzione degli scudi e aumento del danno dell'arma da fuoco. Solo tuo? Io c'ho... ...aumento di Mary. Eh, sì. Non è di squadra. Ok. Allora, ma è di squadra ed è Mech. Cosa update? Io adesso c'ho 16 di scudi. Una... una... una cippa proprio. Eh, fa sempre bene avere niente scudi. No, non è vero. Eh, certo. Cioè... Ma almeno non ho il problema dell'ossigeno, quindi... Ah, sì. This is the only way. Aia, aia. Uh. Aia, aia. Aia. Aia, aia. Aia. Grazie per la visione!